Annaggia che svolto! Vattenee! Ma il famo no? No! Perché? Perché ne voglio! Mannaggia la madre del gallo! No, ancora non ha fatto la madre del gallo! Ma va via! Te vogliono gli amici! Te cercano! Do? Te cercano! Vada al bar! Vada a Maiko che te vogliono! Non cerca nessuno la mia! No no no! Te vogliono! Manco le donne! Zero! Eh? Manco le donne! Zero! Figa! Zero! No! E allora vaffanculo! Figa! Zero! Vattenee! Ah! Figa! Zero! E allora zero! Fatte le seghe! So concentrato solo sul preseppino! Mannaggia la madre! Oh! Ma fai queste mie vattenee! Ah! Ma io so concentrato sul preseppino! E tu sei contro di una pezza di cazzo! Ah! Mannaggia la madre! Stavamo al 75%! Guardate cosa sta a guardare! Che sta a guardare? Eh? Eh! Eh! In giornale! Leggo! Ma questi che so! I carretti! Che roba è? Oh! Che roba è? Questo? Eh! Eh! Questo è il primo trattore! Givano con la legna a vapore! E poi? Eh niente! Ci battevano! Perché una volta non c'era il treno che giva a vapore! Che ai tempi miei era col motore! Racconta! 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 Racconta un po'! Attenzione! Sta scasando! Via! Ssss! 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 Via! Leva tutto! Su! Vai! Vai! Scasa tutto! Vai! Anche un po' di qui! Vai! Anche un po' di qui! Anche un po' di qui! Leppi! Anche un po' di qui! Oh! Via! Tutto quanto! Cucina, salotto, divani! Ma voi fai i cazze miei! Per grattà! Per grattà! Questa volta! Ma questo è del demonio il gioco! Vai via! Gioca una... Gioca del demonio! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr del demonio! Rrrrrrrrrrrrrr Del demonio! Vai via! Ah! fermati che te la dono azzampata per me, perché tu hai da fare i scherzi per me e hai da fare ma che violenza è un periodo che mi sento tanto stanco no tu ti senti tanto stronzo 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 no mi sento stanco ma voglio dormire un attimo sul tavolo fammi dormire sul tavolo voglio dormire un rasagnolo no parmigiano dai c'è il gratto non ce vale salpeggio dai fammelo grattare un po di parmigiano no no comunque sempre 50 grammi di pasta è vero che a londra fanno le messe sataniche è vero o no va via ok è vero ha detto di sì ma 5 giorni a natale e sapete quanto sono importanti per i miei nonni e dovrò farli un regalo voi che cosa fareste ai vostri nonni scrivetemelo in questo box è un nuovo televisore anche perché è un po vecchiotto guardate questo alle 20 partirà un'asta su bidu per aggiudicarsi questo 75 pollici madonna quanto è grosso con questo vede proprio tutto vi porto nella sezione tv e audio guardate non ve l'avevo mai fatta vedere guardate la roba che c'è quindi coccodrilli per tutti i nuovi iscritti 10 puntate gratuite cliccate qua iscrivetevi è gratis com'è sta tutto il giorno avanti a televisione a che fa ma è vero o no è vero o no è vero fermati è vero o no non mi fanno scavalcare fermati no che c'è arrivato no da max eh guarda guarda o no eh guarda provamolo un po' fermati fermati questo ci si taglia il cincillato no questo ci si taglia il pello del cincillato guarda bellino per fammi un tagliettino oh mannaggia sei scemo no ma tu sei scemo fammi tagliare ma tu tagli il c***o tagli te no che tanto non ti serve no come va ah no 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 ma non le pio dai ce ne erano ma no queste no là e levati non le piamo là non le piamo dai non le piamo niente noi dai e quelle queste che mi ha piaciuto no più piccole di queste si che pia e levati porca ma questi li pia no ma non li pia e levati ma non piamo niente se vuoi ci vieni anche tu se no no ehi chi c'è ma uno che c'è vien su no dai vieni a vedere ci hai ritrovato a trovare vieni vieni arriva eh dai vieni qua corri dai io uno tu si casca le scale oh no dai oh martonno eh dai vieni a vedere chi c'è ti è venuto era un anno che mancava tutta me mi fa cosa chi vuoi pia guarda chi c'è vieni a vedere chi c'è oh guarda chi c'è sto con un bacio eh ti è venuto a trovare ma non sei contento vieni qua e vieni a fare una fotina dai fermati che senti freddo poi io ho già chiuso vai vai guarda il pellino dai la mano si ciao vi è ben tornato si ma quel che c'è eh non sei contento ma tu stai ma tu te l'anni quando tu erai andato da cazzo è arrivato dal polo nord direttamente non sta Faustino ecco io dico tocca io il cincilla lui mi ha detto no io sono bravo sono babbo drillo bravo è il babbo drillo vieni qua vieni a vedere oh no sta un po' con lui nonno che attacchi tu a te indiferente le vuole mettere luci da te lì affinati qui e dopo andati qui fino a di là e dopo ti metti un palo e dopo ti metti sul coso e lega il filo passate lì sopra qui la spiegazione è da te lì e te lì metti il coso ti metti su un palo ti metti qua e tila guarda che ti ho preso qua è l'hai preso grosso è grosso quanto è quello no va bene ma fermate dio campo no va bene no va bene il cazzo po' sento ma perché fai lo stupido ti trema al braccio metteremo il cazzo oh anche quello si tutto tremolante no va bene Grazie a tutti.